Ciao ragazzi ben ritrovati, realiente di football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi oggi, fatemi mettere la squadra giusto che ho fatto l'evento per le monete oggi si torna al campionato, si torna a cercare una vittoria la quarta di fila, poco più di 50 punti ci mancano per raggiungere la prima divisione e poi ragazzi avremo anche modo di, una volta riusciti a raggiungere la prima divisione avremo modo di concentrarci su questo nuovo evento che cercherò di portarvi in parallelo che è quello del qualifiers che giocheremo ragazzi sempre con la nostra inter come facciamo praticamente con tutto il football quindi consapevole di giocare un calcio ovviamente diverso che siamo migliorati lo spero nel lungo tempo ovviamente più giochiamo con una squadra, con un modulo più ovviamente diventiamo padroni di quel modulo, padroni di quel gioco vediamo intanto ragazzi chi è l'avversario di oggi che ci separa dalla prima divisione in realtà uno dei tanti avversari che ci separa dalla prima divisione perché comunque penso almeno tre probabilmente, due non ce la dovremmo fare abbiamo una Grecia qui come avversario di oggi primo, avversario di oggi Grecia andiamo subito a dare un'occhiata ai nostri ragazzi, vedo Roberto Carlos sugli scudi noi abbiamo una formazione decisamente in forma con un Mkhitaryan in grande spolvero Marcus Turam è pronto ma... Marcus Turam è pronto ma... e lo giochiamo, lo giochiamo al posto di Adriano poi c'è Dumfries Maio di Maicon ma mi tengo Maicon Frattesi Maio di Ciala ma ragazzi Ciala per me è veramente insostituibile vediamo la squadra dell'avversario, uno squadrone clamoroso con Ruben Dias quello Big Showtime, Cordoba che abbiamo anche noi Pirlo 102 insieme avvierà in mediana Mbappé Ruicosta interessante come diciamo lo schieramento Roberto Carlos Big Time, Raul Messi in avanti quindi direi che con Raul Messi o Cordoba lo posso mettere mi serve qualcuno veloce indubbiamente le marcature ragazzi per adesso non le metto perché di solito anzi ma la mettiamo magari solo su Mbappé sulla destra non sono sicuro che possa funzionare sui CLD di solito quando sono così bassi CLS e CLD abbiamo sempre dei problemi perché è come se i terzini non si alzassero a sufficienza non si alzassero fino ad andare a prendere i centrocampisti laterali quando sono centrocampisti non sono delle vere e proprie ali vediamo anche il nostro avversario che tipo di gioco porterà in campo sapete a noi come piace giocare so che Messi è velocissimo ed è fortissimo a prescindere da tutto ma non so adesso non ho ben presente Raul che tipo di caratteristiche ha se è un giocatore molto veloce se invece predilige il dribbling secco qui subito c'ha la recuperare un buon pallone bravo Lautaro a giocare questo pallone per Di Marco sulla sinistra può scendere Dima che la alza a cercare Celanoglu e poi difensore direttamente in angolo qui un po' spaventato Cordoba dall'arrivo di Celanoglu buono il lancio di Di Marco prima sinistra l'Inter qui c'è Roberto Carlos qui sulla palla al centro sta arrivando Bastoni che calcia 1-0 Inter la tattica a gioco che funziona sbaglia Pirlo completamente Bastoni con la palla a mezz'aria colpisce e fa 1-0 qui ancora un passaggio di profondità sbagliato però anche la palla di Pavard purtroppo anticipato da un grande mickey nooo non era per lui ovviamente ma non so come abbia fatto a darla a a Celanoglu onestamente poi Ciala che si fa riprendere questo pallone riparte serve Di Marco cercare Lautaro in aria è strano questo passaggio così lungo non è da Di Marco onestamente l'attore di solito preciso nei passaggi facendo avanti per Messi c'è Cordoba fa bene il suo lavoro perché la palla è per Di Marco che l'alza a Celanoglu col pallone sulla sinistra tutto chiuso riesce a servire in qualche modo Di Marco che va ancora per l'Inter poi qui Turam per Lautaro mamma mia poi non ho capito se sta giocando in manuale il nostro avversario oppure un po' curiosa indietro per mickey si infila mickey che non controlla il pallone ragazzi incredibilmente palla sul fondo ma incomprensibile prima il passaggio di Di Marco poi questo non controllo di mickey peccato mira la palla per Cancelo addirittura più alto di Mbappé sulla destra prova ad andare da solo ma senza troppi problemi il nostro Barella che poi però sbaglia il passaggio la palla in avanti attenzione al centro perché c'è anche Messi a tenere sott'occhio il cross al centro Pavarra è bravissimo poi c'è Ranoglu che prolunga ma praticamente tra le braccia di Viera un po' di confusione praticamente si dà Raul che si dà fastidio con Messi buono invece questa questa palla con Ciala che va via va a servire Marcus Turam buono il controllo del francese che serve Lautaro tutto chiuso però mamma mia fa fuori l'avversario però prova ad andare indietro da da Di Marco ma Viera capisce tutto in anticipo e fa una grandissima chiusura poi Messi in mezzo a due prova ad andarsene una finta ancora col pallone Messi fermato senza troppi problemi da da Pavarra poi ancora Viera ragazzi mamma mia è una piovra e c'è Barella che recupera alza per Turam che prolunga per Lautaro ancora una chiusura adesso però la Grecia sta spingendo e come di nuovo sull'auditesto il passaggio sbagliato c'è c'è Bastoni che non controlla la palla che carambola sui piedi di Leo Messi che calcia col destro tiro sbilenco deve però svegliarsi qui con Cordoba che alza il pallone a cercare di Marco poi si propone sulla sinistra Ciaranoglu palla che sbatte su Mbappé abbastanza in maniera abbastanza goffa ed è rimessa laterale per l'Inter dopo il primo gol però si è un po' addormentata se permettete poi Michi con una gran giocata a cercare Turam in aria fermato da un incredibile intervento di Roberto Carlos poi ancora Maicon l'1-2 che funziona Douglas Maicon che a campo entra in aria colcio col destro un palo clamoroso di Douglas Maicon che è andato da solo colciato fortissimo il regalo in aria per Turam che non può sbagliare il regalo in rimessa laterale della Grecia e il roraccio di Mbappé si vede forse non è il più adatto a battere queste rimesse laterali si è visto Cordoba con un grande anticipo va a servire Cialanoglu a cercare l'autore mi sa che è fuori gioco questo eh sì la difesa che si è alzata al momento giusto al trentaduesimo è fuori gioco Cialanoglu ci ha messo quell'attimo in più a calciare il pallone peccato ancora Cialanoglu a servire Marco Sturam e qui ancora una volta non si è capito se perché il nostro avversario gioca in manuale qui fallaccio su Marco Sturam che ha saltato secco Cancelo si è preso un calcione e ovviamente anche il calcio di punizione Di Marco con Cialanoglu che si propone vicino 1-2 la palla è per Di Marco ok ancora ragazzi con questi controlli veramente assurdi onestamente poi di nuovo Di Marco l'autore a cercare Cialanoglu a cercare in aria Marcus Sturam che prova a calciare in realtà non ci riesce ancora Sturam non si è capito nulla in questa azione ragazzi trentaseiesimo 3-0 qui Cordoba molto molto lento nella gestione del pallone in area di rigore pericolosissimo onestamente palla è per Raul Maicon che chiusura bravo qui l'alza il nostro Douglas Maicon poi ancora c'è una Noglu cercare l'autaro l'anticipo di Cancelo a chiudere bella questa palla aperta per Pirlo che calcio a giro deviata sporcata da Maicon quel tanto che basta per farlo diventare un tiro innocuo poi ancora l'Inter qui brutto il passaggio il retropassaggio di Marcus Sturam pericoloso Miki che lavoro di Miki Tarjan Cordoba che va da Maicon e l'Inter riparte sulla destra cercare cercare l'autaro questo passaggio di l'autaro a cercare Turam non è proprio bellissimo attenzione al varco centrale con Pirlo che si è infilato Pavar in chiusura maestosa poi Miki che sbaglia l'appoggio per Turam purtroppo ancora la recupero di Cialanoglu poi Miki Tarjan a Cordoba qui invece fa un gran lavoro in interdizione poi Dimarco con il grande anticipo sulla sinistra può andare all'Inter si fa vedere l'autaro e qui è un po' scoperta ovviamente la la Grecia non so perché si è spostato forse si aspettava che la mettessi al centro e l'autaro se ne è accorto in porta facile facile 4-0 direi Gold Accademia mi sembra eccessivo mio caro Caressa ma direi che non c'è molta storia da raccontare per questa partita 4-0 al primo tempo siamo agli sgoccioli del primo quasi all'intervallo Inter in completo dominio Grecia mai giunta dalle parti di Giulione in maniera pericolosa in maniera rimarcabile Inter in dominio totale finisce infatti il primo tempo e 4-0 Inter praticamente perfetta in questo in questo inizio poi l'Audi che è l'altro addirittura per per Turam poi bravissimo qui l'Inter ancora con Cialanoglu che sfonda la porta con una botta sotto la traversa nulla da fare però Oliver Kahn è 5-0 all'inizio del secondo tempo qui tattica del fuorigioco eseguita malissimo si è adesso a Pirlo che prova ad andare da solo calcio a giro il tiro però che ne esce centrale mentre prova a ripartire con Cialanoglu si fa vedere l'Aute ma c'è Cordoba in chiusura mi sembra attento in questo caso poi Rudiger ne avanti per Mbappé bellissimo questo inserimento di Gioao Cansello addirittura centralmente con Pavarra che però va in una chiusura perfetta subito in avanti a cercare Di Marco sulla sinistra si propone Cialanoglu visto e servito si va direttamente dall'Aute vediamo se riesce ad agganciare il pallone no perché Cordoba fa un'altra chiusura importante per scendere poi dagli errori commessi Cordoba in avanti risponde l'altro Cordoba allora ancora l'Inter Barella che va da Cialanoglu il tacco però viene anticipato mamma mia che rischio qui stava provando a calciare Cialanoglu vi era in chiusura Cordoba capisce tutto prima anticipa poi va da solo bellissimo qui ancora il fuorigioco giocato malissimo c'è Di Marco sulla sinistra costa cento arriva Marco Sturam un colpo di testa fantastico al sessantesimo e l'Inter fa 6 a 0 il cross di Marco poi tra l'altro un bijou non sbaglia il francese poi Cialanoglu a giro l'Inter che non si ferma più sessantaduesimo e 7 a 0 ah peccato per questo passaggio di Di Marco un po' impreciso ma la palla è ancora per l'Inter è sempre per Di Marco la finta del terzino italiano il cross al centro ah c'è l'anticipo di Ludicani in questo caso prepara direttamente in avanti ma bastoni perfetto ancora Di Marco altra finta cross al centro palla che resta lì attenzione spazzata malissimo c'è Mkhitaryan un gol meraviglioso a fil di palo e palo gol per l'armeno che va come un treno 8 a 0 Inter un Inter che non si ferma più ancora Barella che si propone per Di Marco fermato qui non si è capito come è la palla che resta lì fortunato qui la Grecia molto fortunata la Grecia poi Mkhitaryan che recupera un gran pallone ancora Mkhitaryan cercare di nuovo Marcus Turam che si arriva di nuovo Mkhitaryan arriva calcia col destro Mkhitaryan a diagonale che si spegne alla destra di Oliver Kahn e fa la barba al palo stavolta esterno però settantaquattresimo Grecia non pervenuta provava adesso di abbastire una bella azione con un paio di passaggi di prima ancora Viera ma Bastoni capisce tutto e anticipa poi c'è la Noglu sbaglia il passaggio qui perché Viera fa un ottimo lavoro di interdizione di nuovo Raul in aria il tiro di prima l'aria è spinta non è finita ancora papè che ci ha provato di nuovo la palla che resta lì con Cordoba che deve spazzare Inter per la mia volta veramente in difficoltà poi Mkhitaryan altro recupero a cercare Marcus Turam forse era il bersaglio sbagliato in questo caso ancora entra al recupero del pallone Marcus Turam non riesce a servire poi c'è Mkhitaryan il pallone in aria a cercare Lautaro Rudiger in chiusura ancora Mkhitaryan di nuovo per l'Audi mamma mia quanta confusione Grecia che sta che è veramente nel pallone a questo punto ancora Barella un grande anticipo alza benissimo per Mycon che mette giù cross al centro sta arrivando Lautaro ma il cross è troppo su Oliver Kahn che rinvia basso ancora grandissimo anticipo di Di Marco una spina nel fianco quest'oggi può andare Di ma la metti al centro ma la spazzata ancora una volta sempre l'Inter Barella giro palo clamoroso da casa sua Barella ci ha provato e ho preso il palo mamma mia ragazzi mamma mia davvero Pirlo a centro campo può andare può scendere serve Cancelo con Messi col pallone adesso che può andare a provare addirittura la roletta non è una cosa che proverei con questo risultato poi Marcus Turam che va da Mkhitaryan sulla destra Mkhitaryan può andare serve ancora Marcus Turam che torna indietro da Lautaro al 93esimo c'è il tempo anche per il 9 a 0 qui Messi prova a fare tutto da solo addirittura di nuovo c'è la Noglu che ha fatto una partita clamorosa tra proiezione offensiva e lavoro difensivo finisce 9 a 0 un peccato non essere riusciti a completare in cifra tonda con quel 10 ma direi che partita che non ha mai avuto un dubbio sul suo esito 19 punti infatti sono ben pochi direi altre due partite ci servono ragazzi per la prima divisione speriamo e possiamo arrivarci con un filoscio di vittorie ininterrotto è tutto per l'episodio di oggi vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima e ci vediamo